Come sono state girate le scene degli aerei in Top Gun Maverick? Ciao, sono Valerio Novara. Top Gun Maverick è sicuramente il film che ci ha riportato al cinema dopo circa tre anni di pandemia. Lo scorso anno ha fatto il botto, poi per volere di Tom Cruise è uscito solo al cinema e ci è rimasto per un bel po' di mesi per volere dell'attore che aveva espressamente detto che il film non sarebbe arrivato sulle piattaforme streaming velocemente. Quindi ci sono voluti tanti mesi, questo ha ridato un po' d'ossigeno ai nostri cinema e è comunque un modo per rilanciare il settore del cinema e va dato atto a Tom Cruise che è stato il primo. Poi, insomma, l'anno scorso c'è stato anche Avatar che ha riportato le persone a guardare i film in sala e devo dire che Top Gun Maverick è stato uno dei film migliori dell'anno e, se vogliamo, ha appassionato tantissime persone anche forse più del primo Top Gun che uscì nell'86. In questo video parlerò un po' di come sono state girate alcune scene dicendovi alcune curiosità sul film e analizzeremo come il film si pone in vista della corsa degli Oscar ricordandovi che domenica 12 marzo faremo la live su Ciac e Azione sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Ciac e Azione una maratona Oscar in cui seguiremo tutta la premiazione prima il red carpet e commenteremo insomma insieme a tanti ospiti la notte più importante dell'anno in chiave cinematografica. Top Gun Maverick è stato candidato a svariati premi Oscar e molti si sono chiesti il perché sia stato candidato anche come miglior film oltre che per la miglior sceneggiatura il miglior sonoro il miglior montaggio ma non Tom Cruise come miglior attore. Beh, c'è da dire che sicuramente la candidatura di Top Gun Maverick come miglior film è data dal fatto che forse l'Academy voleva celebrare la carriera di Tom Cruise e del produttore Jerry Bruckmeier per aver fatto un lavoro straordinario anche a distanza di così tanti anni rispetto al primo film. Tra l'altro Tom Cruise ha raccontato che non aveva avuto delle grandi idee per realizzare un seguito ma che ci aveva sempre avuto in testa il progetto di mettere in piedi un film in seguito di Top Gun dell'86 ma che è arrivata l'ispirazione e l'idea in questi anni e che ci sono voluti tutti questi anni per insomma realizzare questo seguito che avesse un proprio filo conduttore con il primo film e quindi basandosi su questo rapporto con il figlio di Gus e in molti però si sono chiesti perché non è comparsa l'attrice che insomma avevamo visto nel primo film e della quale Mavelick si era innamorato e diciamo è stata l'unica forse nota stonata anche se la maggior parte delle polemiche riguardavano l'aspetto fisico attuale dell'attrice che non è potuta comparire in questo film ed è stata scelta Jennifer Connelly come insomma la donna di Mavelick per questo secondo film al di là delle polemiche bisogna dire che è un film realizzato molto bene dal punto di vista tecnico e una delle curiosità che riguardano il film sono le scene di volo le scene su questi aerei supersonici su questi jet all'avanguardia e che ci portano all'interno di questi abitacoli con i piloti i migliori piloti della marina degli Stati Uniti dovete sapere che rispetto al primo film gli attori sono saliti davvero sugli aerei che vediamo in Top Gun e nelle scene in cui si combatte in volo sia durante l'addestramento che durante la missione vera e propria che vediamo nel finale del film in che modo? gli attori sono stati prima sottoposti a tre mesi di addestramento con dei veri piloti di volo e sono poi saliti davvero sugli aerei che vediamo nel film ma nella parte posteriore dell'aereo mentre il pilota professionista era seduto nella parte anteriore quindi le telecamere pensate che sono state utilizzate delle videocamere in 6K per riprendere dentro l'abitacolo quello che succedeva all'interno dell'abitacolo e quindi anche le espressioni e le parole degli attori sono state posizionate sei videocamere da 6K all'interno di tutto l'abitacolo gli attori sono saliti davvero e hanno effettuato davvero quelle manovre dietro a piloti professionisti e quindi nel film sembra che siano loro a pilotare e a volare diciamo a superare anche la forza di gravità e tutte le vicissitudini che accadono in volo a dei veri piloti della scuola Top Gun non c'è dubbio che siano stati dei mesi abbastanza difficili e l'addestramento sia stato molto complicato ma per volere di Tom Cruise le scene dovevano essere girate realmente su dei veri aerei questo l'aveva detto subito l'attore se no non faccio il film aveva sottolineato e quindi gli è stato concesso gli è stata concessa la possibilità di girare davvero all'interno dell'abitacolo e è venuto fuori un film molto realistico anche perché attori del calibro di Glenn Powell pensate hanno preso davvero il brevetto di volo dopo questi tre mesi insomma si è appassionato al punto che ha preso davvero il brevetto da pilota all'inizio gli attori hanno guidato su dei Cessna e quindi sono andati via via a salire fino ad arrivare ai jet che vediamo nel film però insomma hanno imparato tantissime cose sul volo e sulla pressione fisica e sulla fatica fisica che si prova per girare un film del genere come sapete Tom Cruise tra l'altro non vuole mai avere una controfigura nei suoi film quindi è lui in prima persona che ha girato scene ma come tutti gli altri attori all'interno degli aerei solo che come dicevo erano seduti dietro al pilota professionista che guidava tra l'altro racconta il regista che Tom Cruise per avere una scena perfetta con una fotografia perfetta in alcuni in alcune parti del film si è addestrato tantissime ore e in una giornata ha volato tre volte dall'alba al tramonto poi quando è rientrato insieme al suo pilota e ha chiesto è uscito almeno uno scatto buono e la troupe gli ha risposto sì l'abbiamo acchiappato l'abbiamo preso insomma un film che dal punto di vista tecnico è fatto benissimo anche dal punto di vista sonoro perché nella categoria del miglior sonoro a questi Oscar 2023 non poteva mancare Top Gun Maverick un film che ci proietta all'interno di questi aerei e che anche attraverso il sonoro ci dà l'idea di trovarci all'interno di questi aerei e del combattimento addirittura sono stati posizionati una serie di micro microfoni all'interno dell'abitacolo e sulle facce sul casco degli attori per prendere il sonoro del respiro e l'ansimare degli attori durante le riprese insomma un film che dal punto di vista tecnico è entrato nei minimi dettagli e che ci ha trasportato in tutto e per tutto all'interno di questi combattimenti e che come ho già ripetuto una volta è all'altezza se non superiore al primo film fatemi sapere anche voi cosa ne pensate se il film vi è piaciuto e se secondo voi può portarsi a casa almeno una statuetta ricordiamo che è candidata anche la miglior canzone Hold My End di Lady Gaga ma questo lo scopriremo domenica 12 marzo io vi ricordo che potete seguirci in live la notte degli Oscar sulla pagina Facebook e il canale YouTube di Ciacca e Azione io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video e vi do appuntamento e vi do appuntamento a tutti i nostri